Ciao, io sono Lorenzo e questo è X-Plane Blog Tutorial Italia. Oggi F-18 Super Hornet by Colimata. Lo vedremo, ci gireremo intorno, ci saliremo, lo accenderemo, faremo un volo, vedremo sistemi d'arma, vedremo come si fa a utilizzare l'autopilot, insomma, lo scopriremo insieme, non tutto su questa unica puntata, ma in varie puntate, insomma, per sviscerarlo bene. Quindi mettetevi il casco e saliamo a bordo. Ed eccoci ragazzi di fianco all'F-18F Hornet di Colimata. Bellissimo velivolo, un velivolo questa volta da combattimento. Un pochino di dati prima di entrare nel cockpit. Allora, è alto ben 17,7 metri, pari a circa 56 feet, apertura orale 12,3 metri, altezza dal suolo 4,66 metri, scusate, superficie alare di 37,7 metri quadri, peso a vuoto 10.400 kg, peso carico 16.770 kg, peso massimo al decollo 25.400 kg. Prestazioni non troppo veloce questo Super Hornet, che a differenza del 104 superava la velocità, della due volte la velocità del suono, questo invece va un pochino meno. Mach 1.8, velocità di salita 254 metri al secondo, autonomia 2346 chilometri, tangenza 15.240 metri, tangenza è l'altezza massima raggiungibile del veicolo. Spinto da due motori turboventola General Electric F404 e GE402 con post bruciatore, che vedete laggiù in fondo, per una spinta al massimo di 79 kN ciascuno. L'aereo è un bimotore estremamente agile, questo perché dispone di un'ottima spinta, come abbiamo detto prima, ed è sistema di volo digitale Fly-by-Wire. In più è dotato di LERX, non so se si dice esattamente così, praticamente è un'estensione del bordo di attacco dell'ala, che è in grado di generare, durante le manovre ad alto angolo di attacco, potenti vortici d'aria, che ne ritardano e ne eliminano il distaccamento del flusso aerodinamico sul dorsolare che causa lo stallo. In pratica questo aereo, diciamo, va in stallo molto difficilmente. Anche le derive di coda sono fatte in modo da diminuire la turbolenza al massimo, addirittura sono state concepite che riescono, l'aereo riesce ad atterrare anche con una sola deriva. Nonostante sia un'efficacia caccia, non raggiunge, come abbiamo detto prima, elevate velocità, a causa del tipo di prese d'aria l'aria. La velocità è inferiore, però è in grado di superare in virata quasi tutti gli aerei di produzione statunitense. Il carrello è estremamente robusto e utile per sopportare gli appontaggi. Questo è infatti un aereo imbarcato sulle porta aerei. È dotato di schermi polifunzionali, MFD e un avanzatissimo HUD. Questa è un po' la presentazione, ma adesso bando alle ciance e entriamo all'interno del veicolo. Allora, ci siamo in configurazione con l'Endark, vedete l'FMD, vediamo l'H-LAD e da display e vediamo un pochino come si presenta all'interno. È molto fatto, molto bene, ci sono appunto questi display. Cominciamo a dargli un pochino di vita per vedere un po' come funziona. Per prima cosa, accendiamo il generatore. Ecco, vedete i quattro schermi, anzi cinque schermi che si sono accesi. Vedete da questa parte un pochino di dati per quanto riguarda i due propulsori. Qui l'orizzonte artificiale, questa è la parte del pilota automatico e per il settaggio, ad esempio, del barometro e di altre cose. Questo è il radar di bordo, e infine la parte riguardante i motori. Da notare che tutti questi display sono facilmente configurabili attraverso appunto semplici tap sullo scratch pad. Vedete, qui siamo ritornati nella parte di prima. Vediamo anche il carburante e soprattutto vediamo i sistemi d'arma. ecco, a questo punto vediamo anche che l'aereo quindi si presenta in maniera molto completa con questi display e cominciamo quindi a vedere come fare in modo di accendere questo velivolo. questo tutorial si fermerà appunto all'accensione ecco, vedete qua. Ma la prossima volta vedremo proprio un vele proprio volo con questo meraviglioso e magnifico aereo. Vedete che adesso accendiamo l'APU in questo modo e già in questa in questa configurazione cioè in questo modo noi riusciamo già a accendere il velivolo. Cerco di darvi una visuale che ci permette di farlo in maniera agevole e vedendo anche questo display qua. L'accensione è quindi molto veloce ed eccola qua. Cominciamo a accendere il motore di sinistra. Classico rumore dell'accensione del velivolo. Eccolo qua. Possiamo rilasciare e accendere il motore di destra. Eccoci qua. Non abbiamo tantissimo carburante a bordo ma solo per farvi vedere un po' come funziona il velivolo è più che sufficiente. Ecco qua. Abbiamo quasi completamente eseguito l'accensione. Benissimo. Adesso vediamo se ho messo da posto. Perfetto. Benissimo. eccoci qua a bordo di questo fantastico F18F di colimata. Adesso io mi faccio un giretto non dimenticate di cliccare su mi piace su questo video e ci vediamo nella prossima puntata in cui vedremo come si comporta in volo questo fantastico e meraviglioso veivolo. Arrivederci alla prossima. Grazie. 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 Grazie.